a disposizione per ogni forma di chiarimento rispetto a cose che potrebbero anche essere interpretate in modo diverso rispetto a come potrebbero apparire. Per quello che mi riguarda io ho sempre inteso questi cinque anni con la logica dello spirito di servizio e del bene comune. Credo che questa sia la sua stessa logica e quindi non ho difficoltà veramente a dire che spero veramente che rapidamente si possa rimettere in marcia la macchina regionale nelle scadenze purtroppo che sono immediate. Il bilancio sicuramente non ci aiuta il fatto che a marzo si dovrebbe votare per l'elezione nazionale perché questo un po' distrae anche la politica regionale però questa terra non si può permettere ritardi e mi ha fatto veramente piacere il fatto che lei abbia intenzione speditamente di lavorare. In questi 15 giorni mi sono sentito prigioniero politico perché pensare di fare solo le firme delle comunicazioni e però stare lì fino all'ultimo giorno fino all'ultimo giorno a compiere gli atti io l'ho ritenuto un mio dovere. Quest'estate l'ho potuto prendere ma un giorno di fede diciamo anche l'anno scorso emergenza rifiuti eccetera eccetera. E' andata così spero di prendermi un breve periodo di vacanza che lei dovrà l'opportunità di prendere dopo una campagna elettorale perfettamente desplograta. Mi sono consentito e mi...